La Atari, tassa su rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, immobili o aree scoperte che possano produrre rifiuti urbani. Il Comune di Tolentino ha deliberato di riscuotere la Atari in tre rate. Le prime due rate di acconto, per le quali è stato già inviato l'avviso di pagamento con scadenza il 31 maggio e il 31 luglio 2018, sono state determinate all'80% delle tariffe previste per l'anno 2017. La rata finale è stata determinata in base alle tariffe deliberate per l'anno 2018 dal Consiglio Comunale. Il 12 novembre scorso è stato spedito il conguaglio Tari 2018. La scadenza ordinatoria per il pagamento è fissata al 30 novembre. Si tratta di un termine ordinatorio, pertanto il pagamento, oltre alla scadenza, non costituisce motivo di sanzione alcuna nei confronti del soggetto passivo dell'imposta. Per i contribuenti che a seguito degli eventi sismici hanno avuto un immobile dichiarato inagibile, sono esentati dal pagamento del tributo relativamente a tale edificio. Tuttavia i contribuenti colpiti dall'inagibilità che hanno mantenuto il domicilio nel territorio del Comune di Tolentino in alta sistemazione, sono comunque tenuti al pagamento dell'imposta relativamente all'immobile occupato. I contribuenti occupanti di edifici interessati del lavoro di ripristino dello stato di agibilità definitiva, i quali si sono visti costretti a trovare una diversa sistemazione, sono esentati dal versamento dell'imposta per il periodo di durata dei lavori relativamente all'edificio oggetto di ristrutturazione. L'imposta sarà comunque dovuta per la nuova sistemazione, qualora si trovi nel territorio del Comune di Tolentino. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'avviso ricevuto sia non corrispondente alla situazione attuale, i contribuenti sono pregati di contattare l'ufficio Tributi, sito al Piazzale Europa, al Civicotto, al seguente numero telefonico 0733 90 12 25 o tramite email tributi-comune.tolentino.mc.it L'ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, martedì e giovedì, oltre all'orario del mattino anche dalle 16 alle 18.30.